Ciao a tutti, oggi prepareremo la pastella per fritti con uova. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti più 30 minuti di riposo. Gli ingredienti sono acqua frizzante fredda, farina di tipo 00, uovo e sale. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua che deve essere molto fredda, l'uovo, la farina ed il sale. Ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. La pastella è pronta, trasferire in un contenitore e riporre in frigo per 30 minuti. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la pastella dal frigo, adesso possiamo intingere le verdure e friggere in abbondante olio caldo. Questo tipo di pastella è ideale anche per fritture di pesce o di carne. Pastella per fritti con uova. Grazie e alla prossima ricetta! Alla prossima! Alla prossima! La prossima! Ciao! Alla prossima! Grazie a tutti.